Siamo tornati, ci vedete dopo quanto? Un mese? In realtà loro dopo due mesi, perché l'altra volta ero solo con Margherita Giovanni, Riccardo, Margherita e... Emma? 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 Ah, eccolo! No, non c'è, non c'è, vabbè, Emma arriverà, forse, forse l'abbia è tutta, non lo so, non ci ricordiamo Ma perché... Arriverà Ah, non può, non può, vabbè E siamo tornati perché finalmente possiamo annunciarvi, finalmente, le date di 45 giri E infatti ci vediamo sabato 16 Marzo 2019 Al Teatro dei Concordi di Acquaviva e sabato 23 Marzo Sempre 2019 Al Teatro degli Arrischianti di Sartiano con... 45 giri Mi raccomando, non mancate, continuate a seguirci perché... Venite numerosi Venite numerosi, venite numerosi Perché siamo belli, simpatici, poi lo spettacolo... Ci sono un sacco di corsi da riempire Ci sono un sacco di corsi da riempire Belli, simpatici, poi bravi lo deciderete voi, però belli e simpatici, sono di ugualità anche voi Le teniamo Le teniamo, le teniamo, le teniamo Però, visto che questo è il periodo giusto, siamo qui per augurarvi anche buon Natale, buone feste, anche da noi Perché per noi comunque non è Natale, perché continuiamo a lavorare e quindi è per questo che... Stacchetto Stacchetto No Stacchetto 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 ci vediamo, ci vediamo presto 16.23.39 con 45 giri ciao buona tante